La firma del contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce nella Prefettura di Brindisi alla presenza dell'allora Ministro per il Sud, Mara Carfagna, rappresentò un fatto estremamente positivo, in quanto stavano per giungere in città 51 milioni di euro per investimenti proposti dall'amministrazione comunale riferiti alla valorizzazione della costa e delle attività collegate al mare. Da tempo quelle somme sono diventate anche immediatamente utilizzabili grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il vero problema a questo punto sta nella capacità degli uffici tecnici e dei comuni interessati di predisporre in tempo utile i progetti, visto che al momento stiamo parlando più che altro di schede da cui si poteva percepire la bontà degli interventi proposti a finanziamento, ma nulla di più. Dopodiché bisognerà chiarire l'autentico utilizzo finale e anche la sostenibilità della gestione. Solo a quel punto si potrà e dovrà procedere con le gare d'appalto. C'è il rischio concreto, insomma, che l'effetto positivo riveniente dalla realizzazione di questi finanziamenti potrà essere visibile solo tra molti anni e proprio questa è una circostanza da scongiurare. A Brindisi, ad esempio, come già ribadito, sono stati finanziati interventi per 51 milioni di euro. 30 milioni serviranno per creare, nell'ex collegio domaseo, un polo di innovazione del mare. Bellissima idea, ma non è chiaro come riempie di contenuti la proposta, con quali collaborazioni universitarie e soprattutto con quali risorse per la gestione. 5 milioni, invece, saranno destinati a un primo step di interventi per rendere fruibile, a fini ricettivi, l'isola di Sant'Andrea. Anche in questo caso vale il discorso di prima e cioè che bisogna lavorare per comprendere come si possa rilanciare tutta l'area, su cui insiste l'isola, assieme al Castello Alfonsino, chiarendo se potrà esserci spazio anche per investimenti privati, in maniera tale da far tornare il CIS ad essere anche un moltiplicatore economico e occupazionale. Poi un milione per Toreguaceto e 16 milioni per cominciare ad affrontare il problema dell'erosione della costa. Un punto di partenza in attesa di capire se la stessa costa potrà essere utilizzata anche a fini turistico-ricettivi o se preparano le tesi dell'attuale assessore all'urbanistica Borri. Insomma, la strada è quella giusta, ma non è ancora chiaro come percorrerla e in che tempi.